raga come sapete tutti la city ora è a casa si chiama detto viene si pulisce il garage d'accordo detto d'accordo ha sbaraccato tutto qui il banchino l'ha fatto ora ci ha appuntato per la roba pro è libero pulitissimo grazie può vedere c'entra anche una macchina ora dentro è mitica fantastica numero uno ma quando mai ho pensato di spazzare in garage quando il tappetino nuovo il helmet diventa dice lo butto lavatrice va bene la padrona sei tu che c'è fuma mao vieni dov'è brio faccio cabrio per piacere va e tre giorni è scappato tanto per farvi capire fuma fuma queste lavori vediamo vediamo fischia 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 ciao raga io continuo continuo a usare la city perché sono andato alla parte delle cose da acquistare acquistare ciao da ammigliere la city e fuma